siamo live attenzione attenzione non mi carica la chat ragazzi giustamente giustamente e invece ne carica vai facciamoci le rank subito partire cattivi vediamo se si vede tutto bene ragazzi come la va come la va non dovremmo avere clan contro ne insieme no non si sa mai bye Attenzione, due elite in una squadra Come on, come on Dovete usare il drone per trovare una bomba Permesso Downstairs, guys Passers Io gli entro di qua, vai Chi è? Domani porto il computer in assistenza Ciao Gabri, vieni live su Twitch Con quale rainbow? No vabbè ma intanto guarda la live Non puoi giocare, niente, non c'è niente Non ho niente Con che sei adesso connesso? Io sto piangendo Ma che è successo? Ora sono i ranked, quindi adesso stai insinito un attimo e aprile round me lo disci Sorry Gabri Ragazzi mi raccomando Rodo 250 followers E non comprate i pc PC comprati ma non fate quei gabriete Informatevi Fino c'ha aperto Che andano da me? Abbiamo il disinnescatore come cazzo è la legge Amber scusa ma soltanto a me è cascata la connessione di discord si ok vale di per me adesso e sono la legge bene bene qui cazzo è la bar guys è la bar voglio lefty bana quei amici belli ciao parlo salutano le persone che ti stanno ammirando minchia picciotti bello io da solo sono appena morto 0 a 0 ragazzi eh vabbè succede adesso mi guardo a live un pochino per fare la cacca giusto perché a meno ho letto tu dico parlo mi ria per iniziato a guardare attenzione ciao parlo mi raccomando lascia un fo ah già vuoi scrivere in chat così almeno intanto la anime tipo ciao amici mi raccomando ragazzi mi raccomando c'è scritto 250 followers se se vi va se volete non vi sentite obbligati mi raccomando ma fatelo scherzo ragazzi il prossimo mese webgam perché ho deciso io anche se sarò in pigiama ma non me ne frega niente attenzione a questo blackboard che va bella Dani attenzione tre contro due si avvicinano abbiamo questo termite che guarda da fuori questo blackboard che guarda da fuori nessuno ha il coraggio di entrare blackboard bella mi c'era spanguato tutto no no abbiamo perso male ragazzi mannaggia mannaggia e niente ragazzi vanno te vieni a giocare no no non ci sono stasera lo fanno giusto un po' di compagnia e è bravo è bravo cosa devo fare di sfide così magari il ranking dove qualcosa posso fare quelle giusto più utili a parte che averanno no geone anche in difesa ma swat swat in difesa che esso potrebbe andare adesso scrivo qualcosa che la rimane da live però io vado a smoke ragazzi le sfide me le fanno poi in libera cappelletta arsenale a che servono i punti? i punti che ti da qua il live praticamente in basso a destra ti puoi comprare delle ricompense ovvero che ne so farmi le domande particolari diciamo non lo so giocare con me cose varie ogni 5 minuti prendi 3 punti e l'ultimo premio sono 5 grammi di poca eh l'ultimo premio ragazzi ha un milione di punti poter fare per sempre buono figa grande eh hai visto? neanche tanto 10 secondi porta barricata grana mancano 5 secondi mhm come senti io ho visto che cosa ho combinato su su si no mi fa schifo non ce la faccio giocare neanche io io ho fatto ce l'ho rima a testo l'ho aperto stamattina non potevo prima di mezzo pacchetto che c'è pubblicità no 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 viché urto no io ho infatti mi sa che giusto ho scritto una recensione ci hanno messo la pubblicità ma a fine partita per forza devi sguardare ah buongiorno anzi buonasera signor Gabriele aspettate un attimo ragazzi sono ero anche tu solo ehm no nuovo caricatore fuori fuori cardiaco come me non ho cambiato l'arma così a caso non c'è nessuno No, 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 no. Cazzo E mo Ragazzi volete rifatti i pavimenti Potete chiamarmi Dove cazzo era? Dai nella stanza Delle moto In A In A In A From garage guys E' solo questo Dai che cazzo di round ragazzi Stiamo facendo male Stiamo facendo male Il nostro lavoro non piace Ripa ragazzi Ripa partita bella Su montagno sbagliato Io vedo che sia me mi sei rotto il computer Come hai fatto rompere il computer Ma sei da computer però Sì non so perché ma mi sta andando Sì che guarda non ne voglio parlare E va bene Rip con due di Gabriele Ora provo Dobbiamo individuare una bomba Guarda se mi scarica Rocket League Poi provo a stremmare Rocket League Tanto per togliermi l'ospizio di avere un i7 Attenzione il drone alleato ha trovato una bomba Non usarlo Ma ti è arrivato lo fine? Sì sì Ah Problema è che non mi funziona Il drone ha trovato una bomba È per quello che è spaccato la scrivania No Sì Mi hanno preso Questo cazzo che è dentro di là 10 secondi Vabbè entriamo tutti insieme così appassionatamente 10 secondi all'inserimento Te dici no? Abbiamo il disinnescatore Vai Guarda che bossa è nel culo che lo pigliamo Allora Quindi telecamere Vado a salutare Phoenix e ritorno Ah Le camere qui non ne vedo C'è un bandit Caricare il tardo Sì Vabbè l'ho preso in testa qui Non muore Vabbè l'ho preso in testa qui Ma che era duro No Che fail WTF No mi sono distratto Ma voi guarda questo Che fail Stiamo perdendo 4 a 0 Dai Vaffanculo Ammetto davvero caveira No raga Non ho parole Rip No Come hai perso questo rango Ho perso male Minchia Malissimo Madonna Se c'era io ti votavo per il banno Mamma mia Triste eh Perché non l'avevo neanche visto quello lì Proteggete le bombe No Buon rinforzo velocissimo Me ne vado Rinforza il muro Attenzione La squadra d'attacco ha trovato una bomba Attenzione se ne va Come sparare No i giubbotti No i giubbotti Dispositivo piazzato Rimangono 10 secondi Vado via Ancora 5 secondi Il nemico ha trovato una bomba Prepararsi all'ingaggio Allora qui sono sopra di me Carica da impassione Che mia di merda Attenzione ci prova Ma non ce l'ha aperto Dove cazzo sarò lei On the roof Non fatelo Non mi ammazzerete mai No 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 Non mi avrete mai Save me Arlu salvami Arrivo Entro nel gioco E salvarti E tirarti su Save me Hanno trovato una bomba Sapete cosa fare Ragazzi ho 38 di ping Hanno aggiustato i server Proteggete le bombe Disattivate il disinnescatore Devi andare un pochino più lontano Per farti tirare su Ho 40 di ping ragazzi Hanno aggiustato i server Ah di là ci abbiamo contro il canno Ragazzi Mi salvate Salvate il soldato Ryan Niente ragazzi Non ci possiamo fare Abbiamo perso Io sono morto 2 1 v2 Ecco Abbiamo perso davvero Un operatore alleate Ragazzi io non ho parole Partita persa 4 a 0 Invece la capca la terra Isbuc aveva 10 di vita E' quello che vedo qua Io veramente ragazzi Non credo in quello che vedo Sempre più bestemmi mi salgono al core Ma noi non ne mordiamo E ne faremo un'altra Perché sono oro 2 E voglio continuare a scendere Tra un po' sono oro 3 Per dirvela tutto E così Vieni Vieni a far accompagnare Vieni 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 Madonna, perché non mi posso fare un salto e mandartelo perché è tutto buio, sono già detto io, domani è elevata alle 6, siamo pazzi, è chiaro, anche io l'ho fatta, è alzarmi anche alle 5 e mezza, l'ho fatta per 6 mesi, poi per fortuna ho smesso di prendere il piano e ho cominciato a andare in macchina, la minchia, perché è bello, il bello della della Lombardia e dei treni della Lombardia che ti svegli presto, li vai prendere presto ma lo arrivano comunque in ritardo, e quello è bello, brava bene ma perché ti ho mutato nella live non lo so però ok, ragazzi è vero apparentemente ma l'ho detto che i treni della Lombardia sono puntuali ma non è vero, ma che caso, vai, anzi qui di Caveira è un po' di me la sento già di più, anche perché così faccio la sfida, anche se le sfide erano anche che non si fanno però, Caveira è almeno un po' utile, non esageriamo eh, però grande è una recluta con noi, è vinta, è già vinta, questa ragazzi è vinta davvero difendete l'area e proteggete le bombe vai oh sorry eh hello sorry, questo è sviato adesso sorry damn, retrat does anyone have a mic? yes, yes me ne vado Vediamo dove possono essere Uno di loro abbandonato Attenzione Attivo, attivo, attivo Sono detto che ho vinto Sono detto Dai, ho fatto un prefire incredibile Non l'ho mai preso Prefire all'altezza testa Mai preso No Pull, guys, from pull Ultimo nemico rimasto Ultimo nemico rimasto Attenzione, 2v1 Attenzione incredibile Resta solo un operatore alleato To your left Yeah To the wall, to the wall, to the wall Sei un coglione Sei un coglione di merda Sei un coglione Naturalizzati Non ce la possiamo fare No, che colpo? Questo è un coglione di merda Ma questo è un coglione di merda? Questo è un coglione di merda? Questo è un coglione di merda Che c'è un coglione di merda? 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 e solo tipo simone p 76 pepeba un amico vario official topico gamer live adesso adesso gabriel è lanciatissimo su destini 2 fara fare giornate che è online su discord destini 2 esili ancora cinque secondi abbiamo il disinnescatore l'obiettivo è raggiungerla e disinnescarla non ho preso cambio caricatore no raga calmi tutti inizia a far discorsi ricarico arma libero drone è pronto drone è basso di qua allora mi torna indietro al drone ma che è? c'era 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 l'ho vista l'ho vista basta di cazzo mp in uscita mp in uscita il problema è che non so se scende da qua no non scende Valkyrie è low, on site E dai ragazzi E poi l'ho No, vabbè, raga, mi ha trovato la sprovvista Non so farlo stasera Stasera, ragazzi, è roto tu rame Cambio il titolo Tu ciabatta Io non ho parole Il titolo è cambiato, ragazzi, giornate da streaming Road to ciabatta 3 Eccolo, eccolo Buonasera, siamo ragazzi, domattica Buonasera Il titolo della live lo sai qual è? Qual è? Te lo faccio lei Vallo a legge, no? Vallo a legge perché io non te lo dico Ah, no, vedi anche sotto il mio nome Discord Tranquillo Basta che clicchi sul Discord Pronto, ciabatta 3 Io non ce la posso fare Sono oro 2 Però Io vado, torno con gli altri scemi Quando ho finito il ranked, venite voi Ma se vieni su Siege a fare i cretini Venite da me Non è proprio un problema Se fate solo un ranked No Ma sono solo, sono solo Se sono solo No, venite voi a giocare normale Cioè, finisco questa e vi sposto io Ok, vabbè A dove? Ciao, ciao Non c'è, sono un po' sto svolto Sono passata lì La squadra del attacco ha trovato la bomba Pronti all'assalto E' un po' sto svolto 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 No, sono inassante giro Ma... Eh, loro avessi Eh, no Allora, per quello che non le posso vedere Ecco, infatti Io le vedo Eh, io no Infatti, fa, diceva Ce l'ha mistero tutto oggi Perché vedevo tipo zambetili Che scrivevano cose con il bot E invece, come se la sta scrivendo Che non vedo nessuno e poi se l'ho capito più o meno si dicono la stanza da dire eh beh poi dopo ticano no no non è un problema, poi me ne vado verso la raga io non ho messo veramente il culo di quest'arma proviamo si ma pochissime, è un forte uguale Vediamo Madonna come è visibile ora il laser Ora quello davvero Vai ma so Andiamo Madonna donna di Twitch Oh non te coglioni Oh 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 Don't peek Don't peek Don't peek I have a frost trap under it If he jumps he is dead Don't peek dude Ok ok Fai silenzio Just listen if he breaks the matter Si ma non sento una sega Stai zitto Ricarico Quindici secondi Ultimo nemico rimasto No io ho sparato Batrum 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 Al face speed toucher Oh 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 dai raga perseggiamo il compagno di 12 dai, tanto 12 è utile ranked senti io mi sto giusto anche vedo gli occhi che ti dico buonanotte e ci sentiamo più ciao pardo ciao ciao dove vengono gli altri sì sì è uscita è uscita danny live adesso ora dopo proviamo un po in pubblica vediamo un po non ira anche pochetto le cose dobbiamo uscita uscita allora dove sono 10 secondi all'inserimento eh ma visto ancora 5 secondi mannaggia abbiamo il disinnescatore dovete trovare disinnescare una bomba minaclaymore innescata allora lo metto qua questa è uscita o muoio lo metto guarda ma apposta Zeno parla lo metto vengono l'on vengono 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 Dove sono? Cazzo Cazzo che non l'ho visto Hai trovato la bomba Ma che è raga? Resta solo un operatore d'attacco Eh, qui è brutta Buona Ma hai dieci colpi Eh, niente Guarda l'attacco eliminata E andrei in cuscina Andiamo in cuscina Che secondo me è cuscina Difendibile bene Bene Come andrò C'è neanche un cammino Ragazzi, hanno venuto sempre Sono proprio bene 49, 30 di pico Bellissimo Di forza attivo Qua ci mettiamo Tutti gli spinati Poi che non sono già lì Che devo mettere il muro Dai Posto Per rallentarli Calibrazione Compressione Aria Fatto Matriasse pronto E attivo Ma che si ha lagato tutto Buono Cazzo Sono tutti sopra All upstairs guys Bacca bacca Cazzo Cazzo Questi cani di sembra Non riesco a dare il sangue Dio Cazzo E Cazzo 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 Gli Cazzo Cazzo Resta solo un operatore alleato Dai che cazzo però La squadra d'attacco disarma una bomba Disattivate il disinnescatore Missione fallita Difensori uccisi Se si è fatto ace Grazie Dovete usare il drone per trovare una bomba. Il drone ha trovato una bomba. Cazzo, mano preso. Allora, entriamo di qua adesso e ci rimangiamo. Ok. 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 Non è questa persona. Ricarica! Non hai più il disinnescatore. Non è attivato. Manda il drone stordente. Droni lo trovato. Primo piano. Cosa è? Ehm, just take the bomb and smoke it and go, fam. No, beh, l'avevo... Non l'ho preso mai. Però... Chi stava. È saltato per aria. Oh, nice. One with that. Non ce la possiamo fare, ragazzi, è finita. Resta solo un operatore d'attacco. È finita! Oh! 15 secondi. Non c'è la carta, è finita qua. Non c'è la carta. Non c'è la carta. Non c'è la carta. 5 secondi. Ehi, qua. Quadra d'attacco eliminata. No. Ehi! Buonasera. Che punto state? Uno, uno. Sì. Sennò vi invito. No. Sì. Allora finiamo, arriviamo. Finite il round, tanto perdete. Chi ha guittato? La festa del mondo. Kamitsu. Insomma, aveva fatto tutto anche, devo quanto cacare. Quindi... ho spostato 6 mila volte e via di la costantino che non ha ancora capito come funziona la vita vi ho spostato nella stanza sposta tra cristiani non venire tu no eh ma perché se no nella live non si vedono i nomi e mi arrivava farli vedere si ma stai calmo till non è che perché c'è il pisello piccola non la devi fare così ma stai zitto stai scemo bromance non fidarti mai di una tipa col piaccio di whisper quando entra al termine attenzione a lari cosa può ma chiarire ah comunque non ah ok grazie dell'informazione la m sul capello di super mario sta per metanfetamine hanno giornati serve su rebus x si pinga 40 metanolo utilizziamo quanto pigli no sono crashato hanno tolto anche una stun grenade ah è la si è stato il e capcan e capcan non shotta più con le mine ma fa 60 40 ma non 40 fa 40 meno ok la volete con 40 il danno totale e velocità 2 ora blitz può usare l'abilità mentre corre perché c'ha lo scudo davanti si male e niente si vado via ho spaccato una caviglia nel frattempo vi faccio una caccia terroristi invitatevi quando volete io sono nel menu perché sto aspettando neanche io beh allora facciamolo ti invito adam cook bets son crashato perchè a quanto pare la mia connessione non va bene neanche per i nuovi server attenzione ma strano ma vaffanculo da dietro sei incazzato stasera non riesco a giocare un cazzo ma neanche io ti giuro sto a fa schifo non capisco mai ma ho fatto una cazzata forse no dai damma la caccia terroristi solo io e te va bene scemo di merda eh bisogna dire lui col fucile semi automatico e col pompo ho vinto io giusto no hush baby watch that sound vai solo io e zamba dove io pingo 32 e lui c'è 136 io quanto pingo? 53 dai beh non è male eh no ma finchè non superi 90 no no guerriglia non lo può essere appeso lì eliminate i terroristi eliminate i terroristi eliminate i terroristi la stagione di cazzo è aperta era da dietro vabbè intanto l'ho ammazzato Twitch però mi ha ammazzato a metamite rainbow six leta nord lo stavo a chiedere zamba C'è uno di due Adesso avrò cipare Se non muoio Vabbè cosi sono sordi e ciechi, perfetto Zamba ho 50 anch'io precisi Facciamo no, no 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 Ma perché a caccia i terroristi mi sa tutto di più lento? Vabbè Perché lo è più lento Sono più scemi i terroristi No ma proprio il gioco, se non c'è l'attività Fa un po' più gommoso Allora si è toccato Che è uguale Sono morto Qui lo zamba ti vendito Complicando Complicando che sia fatto No 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 25 Natale Solta su Ho una gatta ma Oh, merda brodo nonono tieni non muoio vado 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 aspettai 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 non aprire la ok mo apri io lo so che sei qui sei qui mamma mia too strong sono passati stade guys sssss il zambino mi ha vinto coso lo fucile a pompa è pericoloso ecco ecco la la bomba di kafkan beccata se ho 49 di vita ma è ottimo ma è ho preso almeno che cazzo però starda non l'ho vista mai è uscita la nuova skin elite di jager caruccio che bondera che fa? bondera italiano? bondera ah ok pensa che c'è la mano di scambi bondering l'italiano è bondera bondera che aspetterei ancora un pochino ascia spararli si tanto vale fai pure una foto magari già che ci sei mamma fai una carezza un bacio sul culo magari anche thermite non ci scherzi eh quindi ora partiamo con gli altri 2 dai è rimasto niente bondera operatori hop dai siete per conto uno per l'amor di dio vi muovete per esempio su siege gli operatori hanno tutte le cose nel corpo addosso dei gadget che hanno in gioco però smoke non ha le bobbe ma non è vero che ci hanno tutti ma anche gli heger non ce l'ha anche gli heger non ce l'ha Mute non ce l'ha quella è solo a forma di granata ci hanno addosso come frost non ce l'ha come frost non ce l'ha nessuno non ce l'ha nessuno però si uscite due skin elite e un giro di poco tra pulse e jäger è passato poco tempo ma quanti devo mettere ancora dentro a fine dell'anno? eh boh vedrai tra giro di questo prossimo anno ne metteranno eh a voglia ogni grosso aggiornamento vedrai metteranno una ormai gli eroi che non hanno le cose pro league o che hanno cose pro league in realtà non è vero sta cosa perchè comunque poi c'era la roba pro league quindi boh quelli più usati no lo mettono ci sono stati si anche a chi l'hanno messa eh si più o meno ha messo a tutti quelli un pochino più piccati termite hanno messo termite dicendo a tutta la gente un pochino più piccata in pro league pro league si usa tanto rodog per esempio quanto mi manca 83 round minchia o stai stai stinti ingazzato no no tanto per sapere calmo non ho mai visto che diciamo che insomma io tra un'ora vado a letto e volevo capire bene se posso giocare prima di non dalla finestra beh mentre aspettiamo ci facciamo un'altra caccia terroristica va bene tanto vedrai una caccia terroristica e l'ora non finita protazione pestaggio che ags abu baie ce l'avete anche voi come amico no no io no te l'ho tolto abu baie no io non ce l'ho soddizio abu baie a bubaie vuol dire cignale in senegalese colage di 200 kg aiuto hanno calciato un cignale nella mia zona che ha usato no marda marda no è ottimo ha preso più di ha preso più di me di me ti messo di siena anzi non 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 i nemici si stanno radunando ricordate ci sono solo due persone al mondo cretina se ora magari parlassero anche del gioco mi piace quanto mi da fastidio sta cosa qua c'erano le frasi più tutte fighe e mi sa 50 secondi vediamo qua la scende la devasto guarda la finanza se vediamo cosa si ancora lì la scende guarda a posto attenti la squadra d'attacco vede l'ostaggio sto fino a pombo questo questo siamo pronti senti pronti allora zamba it's time tu dai c4 tu raggiungi i nostri compagni chi si ammazza prima ecco sono morto giustamente non ti ho levato un cazzo c'è la sentinella si va fuori per 10 secondi zamba nooo nooo noi vogliamo perdere la minaccia sta terminata non ci invidi noi lo accettiamo quando vogliamo tipo adesso ok missione fallita difensori uccisi bam posto un cazzo complaro di cavera auguri e figli maschi pistola e sciocca perfetto partisca partisca con la legge più 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 operato mi chiamo in cero ehi mi chiamo in cero voglio dare barco con la cosa con la spingolo d'orchi esatto no 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 porca tro... eh vabbè è vinta no pur se ci sta ancora dai vai zamba ma quanto hai speso di... di skin su sin poco a partito sta sito perchè ho preso tutte le pro league però quattro pro league valgono che fanno pure cagare eh ma quattro pro league di costo sono una di quelle lì eh compra quattro pro league e poi dopo non... non vuole comprare... cosa? Wildlands che costa troppo ma io le pro league le ho comprate contato bel po' di tempo fa è uguale quando manco lavoravi no? magari? si ecco posso i primi quindici euro di youtube li ho finiti lì gli primi e gli unici io guadagna sei stipendi al mese ahia non volevo pensavo di esser frost ha detto che cazzo fatti che cazzo aspetta che ti butto giù no no c'è poi dieci neanche cinque mi tolto come cazzo è possibile io ah c'è l'ostana ah no presidi vai ma vai le proprie fatti nella tempia le gente preparo il nido il nemico ha individuato il contenitore di biorischio trattegli una pericola dieci secondi hai capito il drone? siamo a cinque secondi le dron... i snowman lavoro fortificato il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio possibile c... no che cazzata si può mettere solo su questo lato vaffanculo cosa? eh la... la finestra di mira o la metto dal lato del muro eh lo so è sempre stato così dall'inizio allora non l'ho mai giocato allora non so niente dall'inizio sempre sempre fatto non sacevo questo... che? nuovo caricatore scemo che cazzo ne ha... scudato uno solo fa pitch a posto ragazzi sono sopra di voi secondo me ci restano zamba dov'è? non lo so non lo vedo io in realtà non ne vedo nessuno mh... it's not bello questa cosa minch siamo dentro chiusi come cani si apri la porta più grande nobile qua alla piccola non lo so non lo so io sono tanto io eh ultimo attaccante rimasto in vita sensore cardiaco pensate ulteriori accessi accontentori eh too strong guys anti chrisht ha abbandonato la partita a posto qua non l'ho preso mai qua si in realtà gli ha levato la spalla in quel periodo nooo non gli ho levato manco la voglia di esistere secondo lo si faccio adesso vedere io come si gioca sta live ragazzi all'ultimo round ho giocato con Twitch e poi si piglia la assati guarda quanti fucili ha pompo due si 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 mi immagino che pure come gadget ti tiravano un fuggile a pompa tipo sull'elmetto ne avevi uno caricato il cliente c'è stato un olor di spagna ma no c'era un film dove tipo tiravi di pugni e come tirava il pugno sparavano nooo era una clip di borderlands mi sembra nooo che cazzo c'è che sparava con le mani nooo le taze le taze fosse pinta ben fatto il contenitore di biorischio è stato individuato andiamo come che c'ho il ping più basso in più e largo che cazzo è possibile ma c'è un anchione che spettacolo la reazione di tardà c'è la col fucile a pompa quindi state almeno a 12 raga ho distrutto il drone sia zammbe che è l'altro tipo che ha scritto ehi ehi aiuto raga c'è l'acqua nei lavandini wow che bella l'acqua no davvero wow wow che bella l'acqua guarda il mio drone che bella l'acqua literally playable aiuto bella sorry sniper sdli sleeper che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo ha detto il mattino che non si è capito un cazzo raga sapete che funzionano l'eclimolo attraverso le buchi dei droni si si ma da ma ti è da anni che in mira si mette in quel modo siamo pari io sono ignorante in materia rca puttana la bomba di kapkan bastardo bella mira che c'è capo è la è andato nella stanza grande raga ho preso 6-7 volte kapkan vuoi un one shot per forza che c'è lì? ma ti mi apri? eh mo aspetta mi apri dietro di te spari col pompozzo prego l'ha scopo la camera no il coso del pane l'ha salvato la vita non... non muore ma ti piacià? ma non lo... lo presto tre botte non lo... cazzo niente aiuto no ma stai tranquillo eh l'arma di camera è che gli è andato nel muso ho visto c'è un pugno gli ha tirato manco una coltellata ha sentito gli parcheggiato accanto praticamente allora l'ho andato a vedere sul disco ma dopo ho messo una calzana che tutti quanti possiamo sentire l'avente copia no siamo su twitch matti ma chi che se non è vin diesel chi è lui quello della foto allora quindi l'ho trovata a casissimo su facebook di un contest di sti scemi che facevano tutti quelli palestrati pieni di anfetamine c'era uno che si vive a quello di che applaudivo spettacolo perché ha fatto tutti stupi ma perché farò tutti stimoli noi andiamo a prenderlo andiamo a prendere un nemico raccogliato il contenitore di più ma quante ma che c'è un'altra mancano di passare il senso quando la raga vedi a vedere dell'albirinto non posso uscire su un cavolo e vado dall'altra parte il contenitore di più rischio a tutti i costi creating e monti il morto fate la botola di che sarà conferenze il 8 8 arrivo io ma è falla però l'ho fatta è aperta non ci posso scendere mattino santo qua guarda me aiuto che stava salvo raga clipatela clipatela si che cazzo mamma raga a 1 e 11 dopo la rivista vuole cazzo scende il lieto non una aperta 2b2 sbagliato esiste serviva siccome e vabbè sgraccia non è quello santi dov'è non lo vedo c'è tutto bianco e te t'accecato c'è che non lo vedi ho fatto la sfida senza fare un cazzo che dolore le panza disgrazia raga tutto insieme l'accendino dove ho quello in itro ho froge quella è tipo l'accendino così per accendere il gas del basta ragazzi devo cagare vabbè tanto il tempo che la trova tu hai già cagato quindi non è che ma non la cercare basta allora la spezziamo sono io non è santino tranquillo ah vabbè comando io cercatela cercala tanto ha detto di cercarla se no si chica e tira la merda c'è comunque ragazzi che sono in live ragazzi mettete un follow perchè noi siamo divertenti ragazzi che sono in live ragazzi allora sono le 11 di sera se ripeto un'altra volta ragazzi eh 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 ragazzi 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 lasciate un rai che ragazzi ragazzi lasciate un rai noi siamo i termosifoi non famosi però quando diventremo famosi saremo collaboratori ci denunciano perchè siamo uguali a loro si si perchè ci copiamo paro paro il problema è che non copiamo noi siamo così e la definizione termosifoi non famosi è divenuta da mattia siamo imbecilli così neanche eh capito e che lo facciamo apposta capodanno di caveira capodanno è un compleanno eh capodanno ogni compleanno è capodanno un chiao santi stasera proprio un cc ma sono stanco da morire ragazzi però oggi ho festeggiato a mezzanotte 1 ho festeggiato per cosa? perchè mi sono avendo dei soldi e poi fa ancora lo stronzo che non mi da 40 euro ci rendiamo conto ma ti ma se spendi 20 fai conto che te l'ho comprato io il trucco fai conto che me li dai perchè io ti tiro una legna prima o poi santi che la metà basta difendete l'area e proteggete le bombe però siccome sono bravo ti faccio scegliere di maugano o di pino la legna come il film di... di a rock ha detto onda tanto cazzo è tutto quanto vuol film ahia la madonna sarà mica stato santino no? no no non ne ho lì infatti ce no ce l'ho ancora tutte e due guarda toh un'altra è qui no e un'altra è questa un coglione c'è la pistola si ma non mi dovevi ammazzare totalmente dai che cazzo e pistola nel piede per cortesia non amore ragazzi mille gentissimo mattia sei ingazzato di nulla di nulla fratellino fratellino traverrino la madonna sono qua non possono salire di là con la finestra non si può rampinare fioridino fioridino rischi crappucano Nido pronto a far danni Nido pronto a far danni Oh merda Eh no davanti alla porta Glaz è montagna Quella porta principale Mattia il fedici per il nero Montagna è strunato C'è Asso su Adesso scemi però Se non ti vedono dai Un operatore alleato rimasto Ebbene Come si è girata Con che velocità Vai bene così E' perchè santo Ha fatto il cretino E' pagato le conseguenze Perché è stupido Mattia Sì basta che adesso Non vi uccidete per favore Non dobbiamo portare La pompa nel caso vi servono Qualcuno presto Out Ah devo Vabbè Geo le sta usando Mattia Geo 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 Ragazzi ma la cosa I bionicle Che fine hanno fatto Ci sono ancora Io ce l'ho regalato Una a nove anni Per il com'ranno bellissimo Non so più dove Si forse tu non hai capito un cazzo Lo sai che ci sono tipo cinque film De bionicle Sono più belli di Bionicle Sì noi uccidete Poi ti scherzi sono più belli Hanno tipo una La pagina wikipedia Che è tipo più grande Di quella di Star Wars Altro modo Ma è tono Sul serio Non è approvato una bomba Un universo di Bionicle I bionicle Bionicle 10 secondi all'inserimento Batta due 5 secondi Cavero Abbiamo il disinnescatore No mu Io mi lascio la bomba La riprendo Cos'è che si fa con la telecamera? Merda non ci arrivo Come mai ci Ma c'è già Jager con la schifo Cusci Lui si che dovrebbe fuori C'era uno un'altra volta State qua un attimo C'era un'altra volta Si presidiava Praticamente Visto la bomba dove eravamo noi Qua sopra Presidiava con Ash Spaccava tutto E stava sotto A controllare tutto Ti giuro Hanno vinto in una maniera incredibile E tipo questo lì c'era Si chiama Quello che commenta la prolie Polica più biondo Ecco sono morto Per tutti sta cazzare Kickstar Ma ti c'è un verme con noi Leggi il nome di Blitz Beo 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 Perché ti ascolto? Ma è colpa mia Chiama quanto è questo Il più facile di Con la skin nuova di Jager Non l'ho visto mai Non è che schiaffo che si è presa Sì Sono io sdraiato a prendere il sole Vedete il Zamba che fa Play of the game Play of the game Play of the game Chiamato dove Role durissimo perché in detenzione noi a c'era finto ragazzo è quasi bello gioco no ma è ma nel senso il minimo di corsa naturale drop shot tu ci ha mai corso con con quei come risco di là no abbiamo corso una volta con quello al luca comics che è una merda tra l'ho provato io da mio padre quelli là ci aveva lì così la scuola gente sa stare che tira sulla gente non riesce stasera quest'uomo non ha sentito la gente ha capito che tira sulla gente ha bisogno di rinforzare concerto quando gli ha scritto i am flash di risposto a te sei scemi attenzione pezzi game ci osta difendete l'area e proteggete le bombe giù filo spinato piazzato granata 10 secondi vai di granata ancora 5 secondi ricarico l'arma la squadra d'attacco ha trovato una bomba il nemico ti scoprirà se rimani in questa zona aiuto questo cazzo di credito dice che la squadra è migliore no mi dite se si rappellano alla destra alla est del balcone si rappellano rampinano matti come lo dici rappellano è venuto così si dice si dice a voi se si dice rappelda in inglese no ragazzi hehehehe ho tirato un coppello al coppello di montagna bene no ma dalla finestra o ma che siamo scemi dal bagno ci asce lì zamba la finestra o west c'è anche cosa ma ci dal bagno zamba esce e spara tutto dietro lì zamba scusa a destra a destra a destra non ce la può fare ancora c'è no more more c'ha tre da 35 a 3 divisa ma è bello zamba gli uccido tutti ok va bene non sono più là eh eh saranno scesi guarda lo scemo dov'è c'è la scaletta non so io rimani in questa zona no merda ha fatto il giro qualcuno è dentro allora ce la c'è dentro torna indietro no ha scelto le scala ancora merda non l'ho visto non l'ho visto niente matti ci fidiamo di te ma non troppo oh 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 c'è la tonda muzzì vai uuh guardate guarda ti fa giro a destra eh moaaaa Monnościro è un coppino c- underwear ce li hai accanto matti che cazzlen colpisce la tarda not trenta Mati ti ha fatto il giro Blitz secondo me ch arrope yeah non c'è la vita per fare roaming però hai le palle per fare roaming becco vedete no ha detto guarda il drone di echo ma come fai non si può no tu puoi cazzo è uscito alla finestra dove erano prima cacanto se l'ho scritto bene bene lascio lo sta no idiot offendere ma c'è come guarda come che culo mamma mia che botta di culpino ciao pino saluta del pino ah pino caprile vende il computer praticamente te lo fa pochissimo manca solo la scheda video quindi sui 500 te lo fai mi raccomando pino che faremo più tutta la chi cretino fortuna figlio della milona lancetti ova beh ci sta Era affortunato ma non è vero Ragazzi guardiamo Tremors Ma no... Ci guardiamo Tremors su Twitch ora Si? No! Come no zamba? Dio cazzate che ti sparo porco dio Spara mi difesso lontatore Oh shit Tu real Testa di cazzo Mamma mia ho capito Vai Moogs Ho sbagliato Gli Snokey Chironi Insomma Piro che ci racconti Schimisci qualcosa di bello Mado in tre hanno votato si Tu a posto siamo tutti i gruppi a pompa tranne lo scemo di Santino Asche non ce l'ha al pompa Asche non ce l'ha al pompa raga Ce l'ha? Non li fa Zamba la devi smettere Dobbiamo individuare una bomba Bellissimo Tremor porco dio Stai zitto Stai zitto Stai zitto coglione che te ha fino a qualche mese fa ti piaceva Promedius ti faceva porco dio A me A me A me No ma stava parlando con Zamba No non stava parlando con me Si si sto parlando con te cretino Ma ce l'ha sempre fatto schifo al cazzo Non dir cazzate porco dio Sono sotto Come si cazzano? Spettacolo No ma Dio su Tremor non si scherza come la mamma Ancora 5 secondi Dipende di chi Hey hey Vabbè la tua puttana Eh eh Cosa Oh Ah non era in vive Scusa Dio Due teste di cazzo lo sapete? Io non ho fatto niente E' successo un disastro C'è morto Ahmed C'è morto No Ma che Io me ne vado No io vado via No vado via io Ma che cazzo Ma che cazzo Dio cane soffi la pompa Funziona L'avrei ucciso però eh Forse Sì Si Ho ucciso e ho tirato a terra Io ho ucciso Spesso Ce la faremo eh Quattro round Eh no Mi serve Ah no Siamo la squadra più organizzata del mondo stasera eh Operazioni speciali Operazioni speciali Vai a letto Operazioni speciali per bimbi speciali Siamo la nuova I nuovi operatori Quelli della crea DIN 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 Ma ti non devi fare dire queste cose Questa cosa siamo cattivi Oh sorry man Sorry Mi immagino Puzzica Scusa Non volevo Raga non rinforzate accanto a me Tutti Ti ha giusto Non rinforzare lì TIL Bravissimo Mi piace Non rinforzare lì TIL bravissimo Mi piace Usa un nuovo caricatore Andiamo a protest... Andiamo Uno Due Tre Quattro La garage non arriva no? Mi sa che arriva dalla cucina Andiamo a vedere Il mio caricatore O dal tunnel addirittura Oppure dal sopra La cucina no? E allora mi sa che arrivando dal tunnel Quello è fuori Questa è da sopra perchè è pieno di droni Dov'è morto quello? Tunnel E' questo Spaccato io la botola Vediamo un poco perchè Ho usato tutti quanti i colpi per spaccare sto cazzo di droni Non puoi spaccare di un 43 E' diventato qualcuno? Se ci hai staccato dall'allarme E' l'allarme Si venga Venga lì Non so se ne hanno capito che qua non possono entrare G-go-go Three people and rush Go rush, go rush, go rush Vai, vai 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 vai... Eh ma c'è qui nessuno matito Si ha pornigliato in 8 è chiesto lento con mira però il pompino pesa 46 kg quella donna con razza 3 no l'avevo preso è un volato no ho preso nessuno dei due no si è uscito il sangue si 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 è morto ha cappiato pensavo in senso che l'avevo buttato giù no 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 come ho preso colto colto to colto ragazzi tra iardate come poche cose nell'universo mario letto l'ha detto lui lecce zamba lecce zamba volete un cerfone una testa bravo quando vuoi dai tanto ci vediamo no l'uno e poi io no dobbiamo individuare una bomba degli schiaffi c'è tempo scendi vuoti tempo ma potete giocare tutti i gemali potete giocare giuati giuati hachmed ha fatto il suo questa è l'isis qui sto in sotto sono la soccola di cavallera che mi sta pensando in culo come? eh no è il twitch che mi sparava da dietro sul drone no non sono sotto no il caveira è qui ma ti ho diventato eh quindi c'ho visto caveira no 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 e però che il drone che mi uscite me raga che falle apposta lo sta facendo ragazzi scappate la twitch potete trovare disinnessa la roba potre no sei passato davanti giamba ma perché ha ammazzato me ahahah ma dio bestia mi ha sparato a lui in giallo ma è passato davanti ragazzi non è che sono comunque ma poi beh gli ha sparato gli ha sparato ma ammazzato me no 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 gli ho sparato io ma chi cazzo gli ha sparato? non lo so sono sopra allora non è neanche presa complimenti tanto occhio che qualcuno sulle scale meglio se inizi a correre sono a caccia cavera noi non ho silenzi da pancia prezzi andiamo ma ho beccato bastardo c'è luke con una scorreggia di vita come non è morta tu uomo per la squadra ma èkle sono solo beh ragazzi sono solo vai Sì, ho capito, ma se non vuoi Non vedono uso di hacking, non è che... Credo che funzioni che dopo un tot e sei le nazioni guardano se effettivamente hai qualche... Ma da quanto faccio cacare stasera non penso che riesca Non è come Overwatch dove segnali le persone perché sono state cattive Fanno anche bene segnali perché sono state cattive O perché spammano le voiceline Perché piccano Anzo E allora, piccare Anzo dovrebbe essere un reito, un reato pulire la legge Regà, ma c'è un donino di... Cal armato di blitz, che carino Prema Regà, proviamo a vincere qualcosa Comunque dai Parolone Lo hai detto? Lo hai detto? Lo ha detto! Che ma fa' questo? Eeeh, si raccusa Post Ma che me poi da post, per favore Va bene, mi prendo mira, prego Ma si raccusa, no? Ma si è piccadeco, te l'ammazzo Dai! Subito, così No, io faccio no Io faccio sì Perché lo voglio sparare Io ho fatto sì Io ho fatto sì L'ho partita io L'ho partita Ma ho l'italiano, ragazzi Non mi prendo Non mi prendo Non mi prendo Sì Ok, man Ok, non mi prendo Non mi prendo Ok? No, 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 non mi prendo Ok? Facci me prendo Ok? No, no no Eeey No, no, no No, no, no No, no, no Sorry, ragazzi Corsi No, no, no Dai, ragazzi che fa? aaaaaaaaaaaaaa che cazzo davvero non ce l'ha dato però ormai sei fuori non mi è questo un cazzo oh no 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 ragazzi non vorrei normal procedure noi siamo in una gruppa no worry ah ok ok we do this is because they think that we are weak but we are not don't worry now we non so come si dice come on lego lego pure le le mobile i don't know raga la clip fate la clip di sta cosa mi prego mi prego e a posto io un amo cosa raga che sta succedendo io io questa questa live è best grip della storia assolutamente stasera proprio niente mani solo niente mani solo colpacci così a caso no santiva si sente che ci stai provando no si sente che ci stai provando c'ho la stanchezza addosso raga quasi venerdì semmi uno in palestra mia che dice che alleni tipo fa gli orecchi nei bracci no ti fai ma che si allena no sto allena da un polpaggio e poi fa su con il tricicolo ah che spettacolo poi tipo ti fa ti guarda e fa guarda questo è proprio le ganache ma da voi si dice ganascia intendo la guancia no cioè non ganascia della macchina ovviamente no no ganascia come guancia no credo prevalentemente prevalentemente toscano io non quinto mai c'è la cavera vaffanculo che paura quando sono in mezzo a una partita è perchè la mia vita è una merda è perchè la mia vita è una merda mi tocca a giocare essere in un paese del primo mondo con la connessione da terzo mondo ma ti ho messo la trappola di la carica di luci ma non è una minora di saetri cambio caricatore ma ti ho messo la carica di luci sotto la bomba no me l'hanno distrutta testa di canz lego guys lego no la sala di sinnescatore l'abbiamo perso coglioni se c'è la mamma puttana questo non è colpa mia cia guardate un quarto non vuoi no no non vuoi non vuoi nel dubbio ti voto ma non vuoi ah nomination comunque a noi in dialetto guancia di gota pure qua ma non è il dialetto è italiano infatti deficiente no si gota italiano le gote ma è sull'academia la rusca italiano e due gotti proteggiate le bocche sei cam gota ss rob lat si ho trovato una gota che il pino sta morendo dalle risate in chat non riesce il pino le create le clip non non surprise non 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 surprise non priviet che stai facendo? che stai facendo? è vero roma io vorrei muia io sono palermo non us magari non sia cam4 erano lo viti ecco non sa man I don't got a teacher in the school. I kill him Non ha insegnanti nella sua scuola perché l'ha uccisa Io ho visto un video per cui non dovrai ridere Look at this spot man I can't camp out the table man I don't know how to do it I got problems I got problems Well one more on the top I don't know I don't know I imagine a razzista No, Fra, no, peggio We'll look after the live After this game No, but this is the drone We're so mad You're alone You're alone You're alone You're alone You're alone I found a bomb Look behind And here Wow Amazing Teal Per quanto mi interessa La I giornali possono andare a farsi fortale Continueremo a fare il nostro gioco per i nostri fan Lezinski Allora ragazzi, la live finisce qua Vediamo la prossima live Grazie per averci seguito Mi raccomando lasciate il follow Perché noi siamo bravi così Arrivederci Oh twitch got so beautiful